Lo scorso giugno venne condannato per l'accusa di omicidio volontario commesso per futili motivi a 22 anni di carcere. Nella sentenza, i giudici della Corte d'Assise di Agrigento hanno escluso le aggravanti della premeditazione della minorata difesa della vittima e concesso quindi le attenuanti generiche. Per questa ragione, la Procura della Repubblica di Agrigento ha fatto ricorso in appello per la sentenza a carico di un 71enne di Canicattì. L'uomo uccise un agricoltore che aveva un appezzamento di terra vicino al suo. Secondo la Procura, però, l'azione omicidiaria fu premeditata. L'uomo reconfesso del delitto avrebbe sparato al vicino, era il 27 settembre 2019, due colpi di pistola al volto dopo una serie di litigi dovute al diritto di passaggio su una strada interpoderale che portava ai loro terreni. L'omicidio avvenne nel terreno della vittima a Canicattì.